Musica Buonasera amici sportivi appassionati di rally, appassionati di motori, ben ritrovati alla terza delle quattro puntate speciali di rombo di motori dedicati al 45esimo rally del Ciocco e della Valle del Serchio siamo in una collocazione un po' particolare di giovedì sera alle 23 tra l'altro ci avete seguito fino a poco più di mezz'ora fa per altre vicende legate al calcio alla lucchese siamo qui negli studi intanto per salutare i graditissimi ospiti io li devo ringraziare perché siamo proprio alla vigilia fra poche ore domani alle 14.15 si parte con la corsa vado a salutare, è un gradito ritorno nei nostri studi ad Andrea Crugnola, buonasera Andrea buonasera a tutti e a Pietro Metto, eccolo qua, buonasera Pietro questi due signori ricordiamo Campioni Italiani Rally 2020 quindi due anni fa vennero a trovarci nell'estate del 2020 in un'annata un po' particolare come lo sono del resto ormai da qualche stagione le annate del rally, le annate dei campionati anche di altre discipline un po' tutto quello che stiamo vivendo vabbè, però qui andremo oltre non vogliamo andare oltre non vogliamo andare oltre allora intanto vi ringrazio Andrea perché insomma domani si parte per la corsa quindi siete già al ciocco da un pa' di giorni dimmi una cosa raccontami subito cos'è successo nel 2021 perché so che insomma lo hai detto anche in alcune interviste non è stata proprio un'annata dovevi difendere il titolo ma le cose non sono andate come ti aspettavi sì, diciamo che sicuramente non è stata una stagione bellissima ci siamo difesi ma a tratti purtroppo la dia bendata ci ha girato le spalle c'è stato qualche piccolo problema di affidabilità cose che possono capitare durante comunque sia l'arco di una stagione e quindi alla fine siamo riusciti in ogni caso a chiudere secondi dopo una bella rimonta che però diciamo non siamo riusciti a non è stata sufficiente a concludere con la vittoria che insomma tutti volevamo e ci auguravamo io intanto appena ora sentiamo anche Pietro Metto e poi fra poco partiremo però riconfortandoci con le immagini anche perché c'è un ritorno a recente passato da parte vostra anche con la macchina no, lo sentite al Pietro Metto questo 2021 così lo archiviamo subito ricordiamo che il titolo poi è andato a Giandomenico Passo se non ricordo male il quarto titolo di Giandomenico in carriera che quindi dovrà difenderlo da domani e resta un po' di rimpianto oppure Pietro sono proprio quelle annate parlando del 2021 dove forse capisci abbastanza presto che non va diciamo che sì non è partita proprio benissimo però non abbiamo comunque mai mollato già è ciocco no? sì del 2021 quello vinto da Tierrineville le cose ne sono esattamente e siamo partiti un po' così così fin dall'inizio però comunque non abbiamo mai mai mollato abbiamo sempre lavorato a testa bassa poi come ha detto Andrea la fortuna non è stata tanto dalla nostra parte però comunque vabbè abbiamo ottenuto comunque un ottimo secondo posto siete stati lì alla fine non è che siete arrivati esimi e quindi e quindi va bene va bene relativamente perché credo che poi ce lo diranno loro partono anche quest'anno credo per per cercare di pissare il titolo del 2020 senti adesso Matteo Pedini ci proporà delle immagini proprio del 2020 noi stasera nel TG Sport eri sera l'ultima puntata del Ciocco Story abbiamo parlato proprio delle ultime tre edizioni mi sono permesso di dire con tre nomi importanti che hanno iscritto il loro nome nell'albo d'oro no? Basso 2019 te 2020 e poi il signor Tierrineville lo scorso anno 2020 è stata un po' l'annata magica per te dove sei arrivato finalmente a quel titolo che inseguivi già da qualche anno sì è stata indubbiamente una bella stagione siamo stati veloci in tutte le gare ne abbiamo vinte parecchie e abbiamo lavorato in sintonia comunque col pacchetto tecnico che avevamo a disposizione quindi macchina più gomme e sicuramente essere tornati di nuovo in Citroen quest'anno con Citroen Racing, con FPF, Pirelli e altri partner che ci appoggiano è sicuramente un ottimo inizio e abbiamo fatto i test comunque sia nella settimana scorsa abbiamo ritrovato un buon fin in quella macchina cosa che mi aspettavo e adesso vedremo indubbiamente quest'anno penso che ci saranno più sfidanti per quanto riguarda l'assoluto ora ci arriviamo non mi anticipare tutti i temi che ora ci arriviamo è quello che diceva anche mercoledì scorso credo uno dei vostri lui almeno ci spera uno dei vostri rivali Rudy Michelini Pietro, vincere il titolo 2020 credo sia stato un po' come dicevo prima il coronamento di qualche stagione in cui Crugnola e Ometto si capiva che potevano arrivare anche perché ormai possiamo dire da qualche stagione stiamo cercando un po' l'erede di Paolo Andreucci e voi come equipaggio siete stati un po' identificati anche perché con tutto il rispetto e la bravura la considerazione che abbiamo di Gian Domenico Pass non è più giovanissimo neanche lui sicuramente allora Andre ha fatto nel 2018 il primo anno senza di me interamente nel campionato italiano poi dal 2019 sono arrivato io e comunque abbiamo vinto un sacco di prove speciali abbiamo vinto siamo andati a vicino a vincere qualche gara già nel 2019 poi abbiamo vinto il Due Valli e poi nel 2020 abbiamo sfruttato al meglio tutte le possibilità abbiamo ottenuto quello che volevamo raggiungere da da tempo entrambi e quindi siamo riusciti no dico maturazione più che esplosione di questi tempi abbiamo dato frutto a tutta l'esperienza ottenuta negli anni perché ricordiamo siete un equipaggio cioè giovane nel senso che siete su 30 anni tutti e due se non sbaglio io no 29 29 e tu 32 eh vabbè siete considerando quelli che ancora tanto di Cappella ai Basso agli Andreucci a questa gente che insomma e poi voglio dire gente campione d'Italia uno nell'assoluto l'altro era da un po' che non vincevo un equipaggio di giovani il campione d'Italia no no ma dico ripeto con grande ammirazione assolutamente per questi grandi campioni però sarebbe l'ora anche di un rinnovamento di un ringiovanimento che credo ci sarà perché poi faremo anche dei nomi possiamo lasciare queste immagini Matteo perché Andrea ci parlava del ritorno del vostro ritorno con la Citroen e tu stasera mi hai mandato una foto prima di venire qui credo che poi Matteo Bedini ce la proporrà anche con la livrea siete andati sul rosso sì diciamo che abbiamo scelto abbastanza dei colori che ricordano appunto quello che Citroen visto che abbiamo l'appoggio diretto di Citroen Racing e la livrea secondo me eccola qua è molto molto bella è essenziale anche comunque per i nostri partner tecnici è molto chiara e gli sponsor sono molto visibili dunque siamo riusciti a diciamo a contentare un po' tutti e sono molto contento del risultato ottenuto è bella Pietro ti piace qui abbiamo fronte frontale posteriore lato sinistro quindi lato pilota lato destro lato copilota a me piace molto è molto grintosa rosso non vedo l'ora di vederla dal vivo è milanista milanista adesso che ti fa milan allora va bene avevo fatto mercoledì complimenti a Rudy che però anche lui ha cambiato ci ha anticipato che è andato su un colore grigio perché ricorderete l'anno scorso aveva questa macchina con colori neri e azzurri gli ho detto guarda che andavano benissimo i colori lì però ha deciso ha deciso di cambiare a parte gli scherzi andrà importante soprattutto al di là del fatto che insomma abbia una bella livrea sia esteticamente elegante piacevole che poi vada forte no? questo prima di tutto tu con la Citroen hai vinto il titolo quindi ritorno alla Citroen è cambiata molto la macchina ci sono state delle evoluzioni in questi ultimi due anni però come ho detto in precedenza mi sono ritrovato subito appena salito in macchina con un buon feeling questo era fondamentale chiaramente devo ancora ultimare diciamo il setup devo affinarlo ecco per questo per domani in vista dello shutdown e poi della gara e quindi vedremo se riusciremo a trovare ancora qualcosina in più per essere ancora più competitivi però voi test l'avete già fatti siete arrivati intanto qui diciamo in provincia di Lucca al Cioc e poi qui da noi stasera siete arrivati mercoledì pomeriggio ma avete già fatto i test nei giorni scorsi? sì l'abbiamo fatto settimana scorsa quindi abbiamo provato le sensazioni sono state buone sì 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 assolutamente sia per me che per Pietro siamo contenti del lavoro svolto con la squadra della FPF Sport Pietro tu cosa dici? avete provato il ritorno alla Citroen con questa macchina che è quella che va dato sicuramente abbiamo lasciato abbiamo ritrovato delle sensazioni che ricordavamo dal 2020 poi abbiamo provato un po' la macchina diciamo con queste nuove evoluzioni però comunque siamo molto soddisfatti e speriamo di di riuscire a confermare il tutto anche in gara essendo veloci ecco no perché Andrea tornando a te lo scorso anno lo scorso anno voi avete corso con la Hyundai e diciamo che al di là della sfortuna che vi può aver accompagnato però è quello che poi diceva anche Rudy mercoledì scorso certe volte un pilota sono cose che succede anche nei rapporti tra le persone sono le persone con cui leghi di più e quelle con cui leghi di meno succede anche con le macchine alla fine mi sembra di capire sì diciamo che è stata una stagione a fase alterna perché in delle gare siamo stati molto veloci delle gare un po' meno e probabilmente mi sono magari ho fatto più fatica appunto in determinate situazioni anche se devo dire che per quanto mi riguarda la squadra ha dato il 120% per metterci sempre in condizioni di poterci esprimere nel migliore dei modi però in alcune gare alla fine gli altri nostri avversari sono stati più veloci e a noi è mancato un po' di feeling però ci può stare non tutte le cembelle escono col buco quindi dai speriamo quest'anno che escano tutte col buco quest'anno la Hyundai ce l'ha Gian Domenico Passo se non sbaglio sì esatto Gian Domenico ha preso il nostro posto ha proprio ereditato la macchina la squadra tutto quanto vediamo dai sarà una bella sfida Pietro che dici il basso Pugnola ormai è una sfida ormai consolidata poi ci saranno anche altri eh anche se però ora ne parleremo di questo degli altri pretendenti al trono che negli ultimi due anni è stato di Andrea di Gian Domenico e anche del ciocco perché mi dovete raccontare qualcosa del vostro ciocco e non so quante volte lo avete fatto al di là di quello che avete vinto nel 2020 delle prove speciali e vi ricorderemo anche quello che noi tv farà quest'anno siamo un po' congestionati anche dal carnevale quest'anno c'è stata questa concomitanza di eventi però poi vi anticiperò che avremo almeno due prove speciali che vi proporremo in diretta vi daremo naturalmente gli orari a tra poco dopo la pausa pubblicitaria eccoci tornati per questa lunghissima serata in compagnia anche del sottoscritto mi auguro di non avervi annoiato beh prima abbiamo avuto la trasmissione sulla lucchese come sempre con le telefonate con tante cose insomma le polemiche lo sapete abbiamo parlato di calcio che è uno sport amatissimo qui a Lucca ora parliamo di rally che è uno sport altrettanto amato a Lucca in Garfagnana in generale in provincia di Lucca siamo con l'equipaggio campione d'Italia 2020 Andrea Crugnola e Pietro Metto che questo titolo è Andrea dai ve lo ora cominciamo a entrare nel vivo del ciocco perché mancano 14 ore e mezzo poco più e questo titolo ve lo volete riprendere sì possiamo dirlo dai facciamo pretattica perché nel calcio dicono ma va bene anche il pareggio poi vediamo questo titolo ve lo volete riprendere sì questo è l'obiettivo quello di poter vincere il campione italiano secondo me come ho detto in precedenza quest'anno penso che abbiamo in disposizione un pacchetto tecnico performante noi dovremmo metterci del nostro perché ogni anno comunque sia anche altri piloti stanno iniziando a crescere comunque stanno iniziando a fare a ripetere le gare e dunque fanno più esperienza e il loro passo diventa sempre più alto e quindi penso che quest'anno rispetto allo scorso anno bisognerà avere e dare ancora quel qualcosina in più se si vorrà vincere il campionato Pietro tu che dici insomma si parte per vincere poi chiaramente quest'anno forse può essere anche più difficile del solito sì sicuramente si parte per vincere e come diceva Andrea sì ci sono delle new entry chiamiamole così che ripetono per la prima volta le gare del campionato italiano con la macchina R5 quindi per l'assoluta e devono essere bravi ovviamente a sfruttare l'esperienza fatta l'anno precedente e sicuramente saranno degli avversari tosti ecco io vi faccio dei nomi poi vediamo riparto da te Pietro vediamo se siete d'accordo poi dopo cominciamo a vedere fra poco tienile pronte lì Matteo anche le immagini dello scorso anno perché lì parleremo anche delle prove speciali ci sono anche delle novità allora Albertini che è ancora uno giovane ma insomma è già abbastanza conosciuto Andolfi che insomma ha avuto l'esperienza anche del mondiale poi un giovanissimo Gian Domenico Pazzo no scherzo vabbè il campione italiano in carica Gian Domenico è uno che insomma da tanti anni è sulla breccia Tommaso Ciuffi che sapete è di Firenze ma un po' qui a Lucca abbiamo quasi un po' adottato altro ragazzo molto interessante poi c'è Andrea Crugnola di cui stiamo parlando Damiano De Tommaso e poi Rudi Michelini anche Rudi non me ne vorrà non è giovanissimo però quest'anno anche lui ce l'ha detto chiaramente qualche ambizione a me mi hanno detto l'espertone di cui non farò mai il nome neanche sotto mi ha detto guarda giocati questi sette questi magnifici sette perché da questi sette poi complessivamente iscritti al campionato ho l'elenco sono mi sembra 19 equipaggi fra questi sette c'è il campione italiano riparto da Pietro sono questi più o meno sono quelli i nomi c'è sicuramente Albertini è sempre stato molto veloce anche Ciuffi ha fatto molto bene qualche gara l'anno scorso anche è un anno l'esperienza e soprattutto esatto ripete il campionato italiano con l'R5 e poi anche gli altri sono tutti comunque stati veloce durante l'anno anche Andolfi sì sì tutti tu Andrea come la vedi? come l'espertone ha detto anche io no te lo dico forse te lo dico un po' no sono del suo stesso avviso nel senso che secondo me diciamo per la vettoria del campionato bisognerà vedere fra questi sette nomi perché il livello quest'anno sono sicuro che si innalzerà ulteriormente un pochettino e quindi se già gli anni scorsi era difficile quest'anno probabilmente in qualche occasione bisognerà cercare di magari accontentarsi o di un podio o di qualche punto perché sarà fondamentale cercare di non perdere punti per strada ecco ma qui ti voglio perché logicamente se prima magari qualche anno fa eravate due massimo in tre a giocarvelo è un po' come nel calcio da quando ci sono i tre punti per la vittoria la distribuzione anche logica e matematica del piazzamento cambia no? perché uno può dire mi va bene anche arrivare secondo mi va bene anche arrivare terzo perché se poi diciamo gli altri fanno zero quindi cambia un po' forse anche l'approccio e la logica no? no no cambia assolutamente gli anni scorsi bisognava per forza vincere le gare quest'anno secondo me l'approccio sarà un po' diverso bisognerà essere più calcolatori dunque sono curioso sono curioso chiaramente anche di vedere un po' i valori in campo domani perché vedere dove siamo capire dove saremo rispetto ai nostri avversari sarà un indicatore in più per capire magari quale tattica utilizzare anche in gara è la curiosità di tutti credo anche di Pietro Metto no Pietro? perché sì adesso stiamo parlando sono tutti i pagi forti però domani alle 14 e 15 si parte poi dalle 15 e 29 la Power Stage pensate su Sassorosso di solito la Power Stage veniva fatta sul viare di Forte dei Marmi o al Ciocco a Sassorosso quindi andiamo anche in quota sono 2 chilometri 390 metri e beh forse già lì ora non dico già lì però c'è curiosità da parte vostra e da parte di tutti ma sicuramente anche le prove corte così non sono banali perché fin dal primo metro bisogna partire a tutta come si dice e non ci si può permettere e poi ci sono i punti anche quindi 3-2-1 per i primi tre esatto quindi è importante partire da subito e poi anche le due prove successive sono sono già interessanti già dal primo giorno senti Pietro scorso anno è venuto a correre da noi insomma un fuoriclasse assoluto come Thierry Neville uno che insomma nel mondiale dice la sua ormai da diversi anni e però non ha vinto col sigaro in bocchia nel senso che questo conferma che alla fine pur con rammarico in questo momento di non avere piloti italiani nel mondiale il nostro campionato nazionale è forse perché è al top in Europa il livello del campionato italiano è altissimo perché chiunque arriva da fuori comunque anche se magari corre a livelli più alti lo stesso Craig Bean ha faticato ha preso le paghe magari vincono ma non con così tanto distacco rispetto a noi comunque il livello è alto il nostro e si vede anche i distacchi tra i concorrenti pretendenti al titolo ogni gara siamo lì a secondi a decimi quindi il livello è molto molto alto e l'anno scorso ne è stata la conferma certo e il ciocco Andrea invece torno a te è sicuramente ora noi giochiamo in casa qui però penso che anche per te che arrivi da Varese lo puoi tranquillamente confermare è per vari motivi una delle gare più più insidiose ma anche più complete dove dove il pilota alla fine si vede no? sicuramente anche perché comunque si fa in un periodo dove il meteo può sempre per sabato non metto è bellissimo tra l'altro non so se avete le stesse notizie può riservare qualche sorpresa al meteo anche le temperature sono basse quindi è un fattore in più che rende la gara più tecnica più difficile di quello che è già quindi come abbiamo visto l'anno scorso non è facile per dei piloti venire da fuori e vincere e quest'anno sarà sarà tosta bisogna vedere appunto il meteo se anche la scelta delle gomme immagino e anche la scelta delle gomme sarà fondamentale se sbagli quelle già è un handicap molto pesante assolutamente ci sono delle prove speciali la pavastegge di Sassorosso che nella giornata di domani assieme a Puglianella ritorno della prova che insomma diciamo costeggia il lago di Vagli siamo in quella zona lì e che non si affronta come ci diceva il direttore Valerio Barsella pensate da ben 17 anni dal 2005 quando vinse Piero Longhi e poi Careggine che è la più lunga quasi 20 km quindi parliamo di una bella prova speciale di quelle sostanziose per la prima tappa poi due volte il ciocco Massa Sassorosso che torna nel suo format diciamo completo Careggine ha anche nella giornata di sabato da ripetere addirittura tre volte poi Massa Sassorosso Renaio c'è anche Renaio e quindi diciamo che saranno sarà sicuramente tanto torna ad essere oltre 120 km di tratti cronometrati no Pietro quindi sarà una prova molto impegnativa considerando che non dovrebbe essere il tempo come è stato nei giorni scorsi che è stato quando siete arrivati qui mercoledì era anche bello ora pare che il meteo è andata anche una certa quota ora non voglio dire che ci sarà la neve perché quella penso di no non lo so però speriamo sia bel tempo intanto non ti piace correre no e poi anche quest'anno essendoci già più di qualche chilometro nella prima giornata insomma anche il meteo e il cambio di meteo tra il primo giorno e il secondo giorno può anche far la differenza sia a livello di scelta di gomme che di gestione di gare ma chi è di voi che segue le previsioni meteo? tutti e due più o meno cosa vi dicono a voi? io per quel che ho visto ce ne sono alcuni che dicono molto incerto bello altre un po' ma diciamo un po' la media siamo ancora nel limbo dell'incertezza e queste sono le cose forse più più imprevedibili conosci la nuova prova speciale quella che gli organizzatori hanno chiamato Puglianella no non l'ha mai fatto conosciamo un piccolo pezzo quello all'inizio perché l'abbiamo fatto anche lo scorso anno nell'arco di un test quindi abbiamo una conoscenza limitata però penso che sarà così per tutti perché essendo tanti anni che non la fanno all'interno del gioco saremo tutti alla pari penso che di quei tempi forse beh avesse corso Andreucci ma gli altri non lo so forse basso ma potrei così andare senti chi vince? noi e chi è che alla fine abbiamo fatto sette nomi l'avversario che ancora consideri più pericoloso? onestamente tutti gli altri sei alla pari? sì secondo me non ripeto voglio vedere domani mattina lo shake dumper vedere un po' i valori in campo ma penso che tutti abbiamo più o meno delle chance per poter giocarci la gara Pietro? eh sono d'accordo con Andrea sì non vedo l'ora di vedere i primi movimenti perché adesso stiamo parlando di supposizioni però ne sono ancora ipotesi che devono trovare il vaglio della corsa esattamente la corsa che noi cominceremo a seguire naturalmente domani pomeriggio dandovi continui aggiornamenti su questo che si chiamerebbe crawl e che noi in gergo volgare chiamiamo biscione vi daremo notizie nel TC Sport sicuramente vi daremo in diretta le due prove speciali del ciocco il ciocco 1 sabato a partire dalle 9 e 19 quindi intorno alle 9 e 10 9 e 15 quindi quando siete lì che prendete il cappuccino sabato mattina sintonizzatevi perché vi daremo in diretta il primo passaggio sul ciocco e il secondo passaggio quando sarete quasi all'ora di pranzo quindi vi faremo compagnia quando sarete a tavola per seguire l'evoluzione di questi campioni di Andrea Crugnola e di Pietro Metto che sono stati i nostri graditi ospiti che io ringrazio io non dico nulla ragazzi due anni fa siete venuti però sapete che qui io che vivo di sport vedo che in tutti i settori c'è una forma di scaramanzia che è pazzesca però d'altronde chi vive di sport che lo racconti o che lo viva in prima persona la protagonista e purtroppo siamo così e così ci dovete prendere bocca al lupo viva al lupo grazie per l'invito grazie a voi grazie a voi ringrazio Matteo Bedini per questa lunga serata vi ringrazio ancora noi torniamo con Rombo di Motori speciale 45esimo rally del ciocco torniamo nella collocazione di mercoledì mercoledì prossimo dopo la corsa rivedremo tutte le immagini vedremo le interviste con noi ci sarà sicuramente il Deus ex machina del rally del ciocco il dottor Valerio Parsella va bene grazie e a questo punto buonanotte grazie a tutti